L'importanza di mobilitare un sostegno a fianco orientale dell'Unione Europea, ovviamente in stretto collegamento con la Nato, domani ci sarà un vertice su questo e il tema verrà riaffrontato, ma con i Paesi più direttamente colpiti ci prepariamo l'essere solidale per mettere in moto gli aiuti umanitari necessari, anche per poter accogliere in modo dignitoso i rifugiati.